Una strega Una strega cattiva e infame Perché nel film è infame Infame, infame, molto infame Iris con Ceta Lombardo con Bellatrix Da Harry Potter Mi teneremo i capelli dalla paura Un applauso alla nostra Iris con Ceta Odio chi mi ha forzato questa sperimentazione Lo dico che resta sbagliamente domani Comunque, andiamo avanti in allegria La numero 10 Direttamente da un videogioco Lara Croft Interpreta Daisy Amalfi Grazie Ci siamo Ciccio Questi sono tanti No, no, vieni qua Vieni qua Vieni qua E allora? Allora Adesso c'è I di vera Gruppo di Harry Potter E i giovani di Disney No, no Ci individuiamo Ovvio Individo io O gli altri gruppi Ambra, Marika, Giorgio Claudio, Giorgio Claudio, Damiano, Sara, Gloria, Clara, Chiara e Marco E loro sono Ginny Weasley, Astrid Greenlass, Daphne Greenlass, Harry Potter, Mary Paciocco, Drago Malfoy, Michael Corder, Hermione Granger e Oliver Posto Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Certo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' come... e... e...